Ti seguo, ti seguiamo, con grande orgoglio, è proprio bello, credimi perché vedevo anche anche i miei figli al fine, il tennis non è gratuito, come quando c'era una volta c'era rossa, tutti parlavano di boline, di boe, di cose perché c'era una rossa, si svegliamo alla notte e tu sei venuto così, la gente bella, bella, è bellissima, è una piacere, mamma mia, mamma mia, ora diventerebbe facile parlare di autodisciplina, di motivazioni, di tutto, è benissimo, basta prendere un pezzetto di lui, andiamo a fare una piazza insieme a tutti, dai, 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 Grazie.